Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Time Travel. Li vedete quei sei? Sì, sto giocando davvero a Typlosion, Ampoleon, Sheptile in un team. Perché questo è un team basato sui pledge. Grass Pledge, Fire Pledge e Water Pledge. Allora, cosa sono questi Grass, Water e Fire Pledge? Sono mosse combinate. In pratica, se viene fatto una mossa Pledge e l'altra mossa Pledge, ovviamente dai nostri due Pokémon in campo, una dopo l'altra, il Pokémon che per secondo fa il Grass, Fire, Water Pledge, dopo il Grass, Fire, Water Pledge, attacca subito dopo. Quindi voi capite che se noi con Sheptile, che è un Mega Sheptile, quindi andremo anche a raggiungere una discretissima velocità, riusciamo a fare Grass Pledge per primi, a ruota poi attaccherà subito il nostro Ampoleon o il nostro Typlosion con Water Pledge o Fire Pledge. I campi, tra l'altro, questi sono insomma un po' dei campi che sono diversi dai vari campi Erboso, Misty Terrain, Electric Seed e Psychic Seed, hanno poi degli effetti aggiuntivi. Ad esempio, se si fa Grass Pledge e Water Pledge, uno dopo l'altro, si va per quattro turni, se non erro, se la memoria non mi tradisce, o addirittura cinque, a dimezzare la velocità dei Pokémon che toccano terra della metà per appunto questi turni sul lato del teleno dell'avversario. E quindi è una cosa abbastanza importante per poi poter sfruttare. Ad esempio, come potete vedere lì, il nostro Nido King. Il team è abbastanza singolare, abbiamo un Bulu Assault Vest, abbiamo un Noivern senza Protect con Tailwind, Dragonium Z, Nido King con quattro attacchi e Life Orb, il Typhlogion e Spex. In pratica qua, l'unico Pokémon che ha la Protect è Sheptile, che è il nostro centro del mondo. Noi siamo in Time Travel, ce lo vogliamo provare questo team? Ovviamente sì. Qualora vi piaccia, non solo vi lascio il QR Code qua sotto, ma voi vedete magari di lasciare un mi piacino, di commentare e poi di iscrivervi se non l'avrete ancora fatto. Io direi che possiamo anche cominciare a giocare e vediamo un po' cosa succede. Japan 1565, vediamo un po'. Wow, Frostblast, Ninetales, Kanga Arca, Coco e Milotic. Noi qua, chiaramente dovremo affrontare la defilità più grande, ecco il Kanga. Io andrei di Sheptile Bulu, quasi quasi. Ma se lì da con Kanga, si entra a Funtile Flogion. Non lo vedo nemmeno male, ecco. Con Arca, volevo dire. Dai, facciamo così. Ho buttato dentro Sheptile Bulu, doppio erba, dice ma Ais, A Arca, sì però tranquilli. Vediamo se potremo stare tranquilli, perché magari lui mi li da Ninetales Arcanine. E poi ho messo dietro Empoleon e Typhlogion. Quindi ho lasciato a casa Noivern e Nido King. L'obiettivo è quello di calare un pledge Ninetales Kanga. Siamo a Salt Vest, quindi ci può andare bene. Io posso anche mettere il Sunny Day adesso. Sarebbe veramente una cattiveria. Facciamolo. Mi prendo una Bora? Vediamo. Se non mi prendo una Bora, proviamo a tirare giù subito di V-Dummer. Kanga. Qui si rischia, eh. Si rischia un sacco. Si rischia il fake out su Sheptile, ma io fossi lui lo farei su Bulu, ragazzi. Potrebbe non dover avere paura di Sheptile in quanto dice se non Mega Evolve è un Pokémon inutile, se Mega Evolve è o Bora. Guardiamo su chi l'ha fatta. Su Sheptile. Io non li capirò mai, ragazzi, questi. Va bene. Non devo sopravvalutare in Time Travel, qua non siamo ai tornei. Va bene. Ti sei preso un V-Dummer nel viso sotto Grassi Terra in Nakanga. Hai messo Aurora Veil, quindi reggerai. O forse no, perché crittiamo? Oi oi. Che culo. Che culo. Bene. Bene così. Comunque, anche qualora non avessimo crittato, non sarebbe morto. Ma era nel rosso. Forse un pelo d'arancione. Quindi, insomma. Lasciare proprio campo libero a Bulu così. Per quello, no? Stavo dicendo, forse avrebbe avuto più senso un diverso... Un diverso modo di agire. Comunque, io qua sono quasi indeciso se fare Sunny Day... Un diverso modo di agire. Vi dirò, ragazzi, non entro con Tiflosion. Entro con Empolion. Sapete perché? A parte perché reggo quattro perle Bore. Ma, perché almeno che quel Froslass non sia Scarf... Se noi facciamo il Grass Pledge più Water Pledge, andiamo a calare di un quarto la velocità per quattro turni dell'avversario. E quindi, poi entriamo con Tiflosion e abbiamo l'Eruption. Ovviamente, però, guardate cosa succede. Chiaramente. Cioè, proprio... È scontata, quasi, no? La cosa. Ci vuole tanta pazienza, ragazzi. Tanta pazienza. Ora, due Bore ci sta che arrivi un Fridzer. Però, insomma, è comunque una percentuale bassa. Niente, Sunny Day. Vediamo se... Non abbiamo nemmeno Scald, qua. È pazzesco. È pazzesco. Vabbè, dai. Gli ho crittato Kanga. Avrei preferito non crittare e non essere congelato, però, eh? Ora, poi, c'è mi critta... Mi frizza anche Tiflosion. Sarebbe da ridere. E, ovviamente, il nostro acciaio è congelato. Un po' di Flash Cannon si tirava giù. Tutto. Tutto. Nine Tails e Debole 4x, tra l'altro, acciaio. Però, vabbè, dai. Abbiamo detto. Abbiamo crittato. Ci può stare Fridzer. Diciamo così. Io mi vado a lockare sul Fire Pledge. Non si può nemmeno utilizzare la Z su Empoleon. Lui continua ad andare di Bora. Se magari è un Polio... Eh, vabbè. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ok. Meno male, via. Siamo Spex. Lui è Sesh. E Empoleon. Ancora. Se la frizza. Giusto? Sì. Che vi devo dire, ragazzi? Vi dico che se il nostro Empoleon si sfrizza, abbiamo una chance. Se no, no. Non posso farci Fire Pledge addosso, tra l'altro, perché, insomma... Gli faccio tanto male. Cioè, per scongelarlo gli faccio uno sbotto. Acciaio Acqua sta prendendo mosse Ice e, ovviamente, è sempre lì, congelato. Dai, forza. Abbiamo il 20% ogni turno. Proviamoci. Guardiamo chi entra. Arcanine. Destiny Bond. Il nostro Typhlosion andrà giù. Ma intanto facciamo fuori un altro. Vabbè. Ti puoi svegliare. Cioè, svegliare. Scongelare. Per favore. No. No. Eh, pazzesco. Pazzesco. Allora, lui rimette la Hail. Io vado di Bulu. Ci sono cinque turni di Grassi nuovamente, cinque di Hail nuovamente. Lui, avendo la Sesh Frost, la Sesh è sicuramente Light Clay, anche perché l'Aurora Vail non è ancora andato giù. Quindi ci sono altri tre turni di Aurora Vail. Controlliamoli sul tassierino. Esatto. Io provo di Horn Leech. Poi, ragazzi, se noi reggiamo un Flare Blitz... Se ci fa Flare Blitz... Proviamo la Z. Wild Charge, giustamente, non ci vuole sfrizzare. E poi, soprattutto, ci fa di più. Però, attenzione. Magari è CB e magari si è loccato su Wild Charge. E, in tal caso, il nostro Mega Sheptile può averla meglio. Ci credo pochissimo a questa cosa, però... Voglio regalarmi questa chance. Questa speranza. Del resto, il Frieza su Impollion è stato pesantuccio. Ma, ripeto, abbiamo cretato Kanga. Quindi, dai. Ci può stare, ci può stare. Era preventivabile che arrivasse il Frieza con tutte quelle bolle. Quindi, via, dai. Ok. Ora. Noi abbiamo Lorne, Leech. Io faccio su Arca. Mega Evolvo. Proviamo, via. Dai, magari è CB. Ti prego, ti prego. Quanto goderei. Qui parte un Leaf Storm sotto campo erboso. Quindi Ninthreads lo salutiamo. Aurora Veil. Non ci fa proprio niente. Il nostro provocatorio Mega Sheptile. Una delle Mega più strabelle di sempre. Ok. Lui va su Bulu. E la partita è finita. A meno che noi non si critti dopo. Gepardo, perché non hai fatto Grassi Pledge? Su Ninthreads. Col campo erboso forse sarebbe bastato per tirarlo giù. Forse sì. Ma ne volevo essere sicuro. E in ogni caso comunque... La Cifledger per non dropparti, no? Perché tanto drop o non drop... È abbastanza finita. Si è pagato il Fritz. Ma ripeto, per la terza volta abbiamo crittato Cane. Va bene così. Va bene così. Provo la Protek perché faccio andare via l'Aurora Veil. Così, se crittiamo di Leaf Storm sotto campo erboso, allora si vinciamo. Perché annulliamo il nostro Malus. E vediamo poi ve lo che succede. Via, dai. Avrebbe dell'epico un crit adesso e tirare giù l'Arcanine con il Leaf Storm. Non succederà, ma se succede. Di solito quando aspetto queste cose mi so il Leaf Storm. Vedete, anche non a meno due gli avrei fatto il doppio. Sarebbe straresistito. Qua serviva proprio il crit. E quindi, va bene, aver fatto comunque il Leaf Storm di là. Fleet Beats e partita finita. Dai, bellina però. Sono divertito. Ovviamente questo non è un team per proprio scalare la classifica. Ecco, è un team così. Per provare qualcosa di diverso. Abbiamo detto, Time Travel è la nostra officina. La nostra fucina più che officina. La offucina. Va bene, dopo questa io direi che è il caso di andare gara 2. Forza. Mi chiedo. 1.770. Questo sarà duro da battere. Ci avrà il classico Gustaffone. E infatti, Kangha finito undulando ai Dragon Age. Aioi. Che pazienza. Bulu. Sheptad. Qua Nido King mi potrebbe davvero aiutare. Però io devo fare il Pantano sul suo lato del campo. Quindi lasciamo a casa Typhlogion. E proviamo a portare Empoleon. Cosa tra l'altro da non sottovalutare. E' che... Sheptile mega appara fulmine. Quindi fare Empoleon Sheptile. Ricomporli. Può essere molto interessante. Perché ad esempio Tundurus, il nostro avversario, non può andare di fulmine a cuore leggero. Poi chiaro, se ha Discharge parliamo del niente, ma... È abbastanza raro. Non mi sorprenderei comunque lo avesse. Penso che prossimo time travel mi voglio provare un team come il suo. Con Tundurus T. Bellissimo. Vediamo, dai. Allora, Kanga Tundurus. Troppo bello. Shiny Poir. Dai, signori. Siamo qua per fare la leggenda. Vediamo il farla. Che sia Scarf. Che si voglia... Si è alledato con Tundurus contro un... Io di Mega ne posso avere uno nel team. Chi è Sheptile. Si è alledato con Tundurus... Io penso che possa addirittura essere Scarf, ragazzi. Non Mega Evolvo subito. Perché intanto voglio un po' mischiare le carte. Confonderle perché mischiarle. Magari posso... Voglio dargli il dubbio magari di non essere Mega. E quindi poter far il mio turno dopo. Ma poi... Perché da quest'anno con le meccaniche non abbiamo bisogno di farla subito per essere più veloci il turno dopo. In quanto la velocità la acquisisci già il turno che Mega Evolvi. Sludge Bomb. Ciao, Bulu. Un PS! Perché siamo Assault West. Attenzione. Attenzione. Che il nostro Bulu ce l'ha svolta. E noi... Quasi salutiamo Kanga. Pazzesco! Tanta roba. Bello. No, ma Sludge Bomb noi dovremmo reggerlo. Allora, col Grass... No, non ho mai che voluto. Sono un pollo. Non Mega Evolvendo Sludge Bomb ci sta che mi tiri giù. Vabbè. Adesso proprio ci tira giù. È che magari ero più veloce. No, magari no. È Scarf. L'avevamo annusato. È il Tundra o Spiscale. Ma porca caccia la miseria ecce. Vabbè. Vabbè. Partita persa. Un team del genere contro team come quelli. Niente può. Ma io dovevo provare anche Nindokin. Quindi vabbè. Allora. Allora. Ci volevo fare il Power ma tanto non me ne frega farcela in quanto è più lento comunque. Nooo. Sono proprio... Questa cosa mi svela un... Una cosa molto interessante. Quel Kang ha retto V-Dammer sotto campo erboso perché è lento, 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 lento. E quindi, essendo lento, 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 capisco adesso perché ha retto V-Dammer sotto campo erboso. Se fosse morto, la partita avrebbe avuto tutto un altro svolgimento, sapete? Perché io avrei fatto il Water più Gas Pledge. Avrei calato la velocità dei due Pokémon sul terreno di gioco dell'avversario. E con un Polio Nido King non c'è niente che reca. Buon niente. Buon niente. Finita perché il Dragon è più veloce di Nido King. E invece no. Vediamo. Se fosse venuto giù. Mamma mia. Se fosse venuto giù. Avremmo potuto vincere. Perché lui rimaneva col solo Tundurus T contro Nido King e Empoleon. Quindi ragazzi, questa partita che era cominciata molto male e sembrava un cappotto. vi dico che se noi avessimo beccato il roll di Ice Beam su iDragon, iDragon veniva giù. Adesso tiravamo giù Aegislash. Kang è venuto giù il turno precedente. E quindi noi eravamo uno contro due e vincevamo noi. Però vabbè. È andata così. Quindi. Alla fine. è che lui gioca tutta roba stralenta e bulky. Qua ovviamente lui ha fulmine Dark Pulse. Niente. Rimandiamo una nostra eventuale vittoria al prossimo match. Ok ragazzi, siamo andati a un pelo dalla vittoria contro il 1770 con questo team qua. Guardate quanta vita ha quell'iDragon. Niente, niente. Non facciamo fuga, insomma. Va bene. Adesso ci arriva fulmine Dark Pulse. Partita finita. Peccato. Peccato davvero. Avrebbe avuto dell'epico battere un 1770 con questi troiai qua. Però. Ma che ce frega. Andiamo avanti. Io ci credo. Yes we can. Forza ragazzi. Potere degli starter. Proviamo. Proviamo a farci sta terza vittoria. Cioè. Sta prima vittoria. Perché per ora. Giappone. Boom. Beh. Lui c'ha un team a quasi peggio del nostro. No. Un cavolo. Bulu Wimsicott. Surki. Camerapt. Mega. Charizard. Mega. Boh. Chi lo sa. Dustclops. Tricrum. Sicuro. Tra l'altro. Occhiala Tricrum. Anche di coso. Di Wimsicott. Io qua partirei. Tiflojon. Sheptile. Tiflojon. 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 E Empoleon ancora per la terza volta. Sono un po' in crisi se mi parte con Charizard. Ebbè. Vi avviso. Bulu Wimsicott. Che voglia arrivare la Tricrum. Io non Mega Evolve. Io vado di Grass Fletch su Wimsicott. Non Mega Evolve perché se Mega Evolve divento Drago. E se lui mi fa la Zeta. Non la fa. Però vabbè. Avesse voluto fare la Zeta. O Moon Blast. Giusto. La Zeta sarebbe stata Erba. Niente. Pensavo alla Zeta Feri. Contra Pufini. Cancellate. Però comunque se mi avesse voluto fare Moon Blast. Insomma. Quindi va bene. Comunque non Mega Evolve. Contro Wimsicott. Si Mega Evolverà dopo. Il problema adesso signori. È che qua ci sono tre turni. Sì. Uno. Due. Tre. Turni di Tailwind da resistere. È vero che gli abbiamo tirato giù tutto il creato con Eruption Choice Packs. Però. Grande Tiflojon. Surkity. Non mi diciamo Charizard. Non mi diciamo Charizard. Non mi diciamo Charizard. Beh. Vabbè. Semino. Lui si aumenta la difesa. E vabbè. Noi siamo speciali. E quindi. Mega Evolve. E protezione. Ora. Siccome a noi il sole farebbe stracomodo. Lui è X. No. E Y. E allora attenzione a questa eruption ragazzi. Il signor Poom. Se è andato di fulmine dovrebbe poi fare i conti con il nostro Lighting Road. No. No. Heat Wave. E vi fissi la Massive Lotion. No. Prendimi anche un bel danno. Mi raccomando. Aia. Boia. Buono. Qua Eruption sotto sole. Siamo molto indeboliti. Però. Ho Akshurkisi qualcosa a fare. Ok. Anche a Chaisat. Io ce lo lascio. Io vi favo di Grass Fledge. Su Chaisat. Eden Power Rise. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai E Thunderbolt. Molto. Aiaiaiaiaiai E più uno. Abbiamo beccato il Charizard con Hidden Power Eyes Ragazzi oggi non si vince manco con Pum Sono stato un pollo Perché avrei dovuto fare doppio switch Però vabbè Se preservavo Preservavo Sheptile L'avevo vinto Però mi merito di perdere Qui è finita Fulmine, it wait Speriamo di essere più veloci Ma è finita Fulmine su Empoleon Overita addirittura su Nilo King E noi non si vince nemmeno questa Ragazzi questo video è stato meraviglioso Dal punto di vista estereo Dal punto di vista delle premesse Tante belle parole Tante belle combo Ma poi in realtà Non ne abbiamo vinta Non ne abbiamo vinta Non ne abbiamo vinta manco mezza Ma che se ne frega Siamo in time travel Importante E fa bene La torneia ufficiale E un win streak Perché lì bisogna essere straseri Io ho voluto provare E noi diciamo che provando Abbiamo capito che forse forse Water pledge E fire pledge Fanno un po' pena Va bene ragazzi Cioè va bene Va molto male Abbiamo perso tutti e tre Però insomma Ci può staccare con quell'essere Ci ha giocato Io ho provato a giocarlo al meglio Forse in questo terzo match Ho fatto abbastanza Una puttanata Ma va bene Nel senso che Avrei dovuto levare Sheptile Non mi poteva aspettare HP Ice Era abbastanza sicuro Di reggere Però avrei dovuto Levare Sheptile Così che poi Finiva la tailwind Con un detect Il turno successivo Anche qualora fosse arrivata La kill Su hidden power ice Non si è mai arrivata Ma insomma E poi Dopo giocarmi Il grass pledge Più water pledge Grass pledge Water pledge E forse Avrei vinto Non sarebbe stata Matematica nemmeno lì Però Avrei avuto grandi chance Così invece Con HP Ice L'ho buttata Però ripeto Non potevo sapere Che ce l'avessi Comunque Ragazzi Questo è lo spirito Del time travel E quindi Niente Questo evidentemente Non era un team Così competitivo Mi raccomando Dateci sotto Come mi piace Commenti Per consolarmi E poi Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo stasera Per proseguire Questo giovedì goliardico Ore 20 e 30 Con la live Delle battle front E mi raccomando Numerosi come sempre Perché Forse stasera Si finisce di prendere Tutti gli ori Chissà E io Sta puntatina Non me la perderei E poi C'è un ospite Ciao 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 Ciao